questo non lo posso fare questo non lo posso fare dai ma non ma io non capisco se è partito o no per la preparazione aspetta no non sei online come cazzo non è possibile serve un fuoco da campo allora facciamo un fuoco da campo piccolo mi dice in onda ma vabbè ok adesso siamo in onda ciao siamo in onda ci sei lu facciamo un po di cacciara ma si pensa che facciamo la live insieme poi la faremo anzi adesso io tra l'altro no ho sparato cazzo ho sparato a vuoto non mi insegue la gente oh mi tira sotto il treno no 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 ma tu la sei guardando la live eh ma se ci sei ci ti guarda si sei attivo è partita l'ha detto oh ma eccoti qua sto con la cena silenziosa eh si anch'io comunque ho fatto ho condiviso anche su youtube quel gran giocone di poker che ho provato oggi mi immagino le visualizzazioni sul poker immagino gli insulti ah si oh che bello è notte hai un pacchetto da aprire aspetta c'ho un pacchetto da aprire puoi ritirare un ufficio postale ah chiamo il cavallo intanto va dove sei siamo la stessa forza dove tu dove cazzo non la sei ah boh io non mi ricordo neanche più come sei tu ciao a chiunque sia entrato eh ma ciao vedo scritto nessuno fuma casin fuma casin ah la luna guarda che bella oh ascolta ma ma siamo notte tutte e due ascolta tutte e due non è possibile aspetta aspetta non è possibile dove cazzo sei ma come si fa a vedere la mappa cos'è quello cloclo ma scusa ma hai cambiato il personaggio no aveva fatto niente me l'ha attivato così però io adesso devo andare alla mappa ah non è merluke hai ricevuto un invito no 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 non c'è l'invito tieni premuto per aprire il catalogo tascabile no 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 infatti lo sto leggendo da tua pagina no rinuncia non fa non lo fare non lo faccio però non so cosa fare sto arrivando da sto arrivando io eh dove sei non ti vedo è un attimo devo andare all'ufficio postale però ma si ma vai a ritirarlo a posto no vai ma devo riscattare il pacco del prime sono i lingotti ti capi ma tu sei quel pallino blu allora come si che ne sai daisy tu ma perché scusa tu non sei più nella mia oh oh chi è questo fermo 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 sei tu quello si sono io questo ah ok e se ti investo ah ma devo rifondare la posta dai scendo vengo ad abbracciarti posso abbracciare no non abbracciare che minchia diventi dai ti appoggio il pacco sulla mano dai ma sei già invitato non ti posso invitare e tu mi hai invitato si ho capito ma non funziona un cazzo io qua devo far da mangiare non posso fare il campfire non lo capisci io chiamo demon così tanto dai che te lo appoggio un po' da dietro aspetta ah no ma lei è in capo a campamento piccolo un cloclo daisy un cloclo ma dove cazzo ecco vieni qua vieni qua cavallo hai preso il cavallo ma per dargli da mangiare a sto cavallo una volta che sei sopra premi L1 poi vai su vai su cavallo e c'è galletta da vena non lo vedo allora devi premere tieni premuto L1 eh ok poi tenendo premuto L1 schiacci R1 e vai fino a ah ok vabbè ma mi sembra abbastanza eh no non so non stavo non stavo leggendo galletta da vena mi segua per fare mi segua per fare mela ah per confermare devi lasciare devi allora per confermare devi eh come come ci ti ha praticamente tu lasci l'indicatore rosso l'ha fatta l'ha fatta la sta mangiando ok ok bravo adesso scodinzo dal cavallo dove sei eh sono qua c'è sempre il pallino blu tu si è sempre lo stronzo blu ok ti vedo venga sei questo no venga venga piano per favore che male adesso è abituato così eh ho capito che lei ha abituato le macchine ma qua non ci sono le macchine ci sono i cavalli un attimo a prenderci la mano eh no lei deve prendere proprio lei deve prendere proprio un delicatente c'è una patente per il cavallo ma venga lascia prendere sto cavallo venga è che venga a piedi andiamo a cavallo com'è fatto a farlo saltare ah ok c'è un accampamento dov'è di fronte qua ah ma è una casa no 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 c'è una spaventa passeri eh l'ho visto la spaventa passeri c'è un accampamento laggiù c'è un fuoco si ma non c'è non c'è nessuno oh perfetto fermo fermo cavallo fermo potuto cavallo maledetto cavallo allora ahia allora se tu scendieri al cavallo scendo scendi vieni vicino al fuocherello si ma vedi che ti compare riposa vicino al fuoco crea cucina si ora se tieni premuto su crea cucina si ti esce un botto di roba che puoi cucinare ah io ho fatto riposa veramente cosa perché tu devi fare cucina e invece hai fatto bello amore ma vuoi fare cucina ascolta a me mi esce caffè a tutti gli iscritti gli dite di ascoltarmi se no diventa lungo allora allora tu praticamente devi fare cucina che crea cucina che sto facendo quando tu uccidi una bestia si lui ti dà delle lui si amore lui lui praticamente ti dà delle un pezzo di carne quel pezzo di carne lo puoi cucinare cucinando quel pezzo di carne ti fa vedere a parte che lo puoi mangiare ma ti fa vedere che non c'è niente anche tu non c'è un cazzo perché non hai cucinato un cazzo non hai cacciato niente va bene però quando giocherai se mai giocherai da solo anche quando ti fai la ma mangia va tu stai lì e mi guardi mangiare basta anche quando madonna adesso ti tiro una freccia in testa o la voglio tirarti una freccia in testa comunque allora c'è una taglia leggendaria disponibile ma io eviterei di fare taglia leggendaria perché olo allora se tu ti allora e tu ho fatto vedere il campfire l'hai visto? si quando incontri questi cosi qua e c'è della carne o hai del pesce perché se tu scommetti che tu vorrei andare a pescare si se hai del pesche del pesche pesche se hai del pesce quando trovi in giro questi accampamenti qua vai qui e minchia ti fai da mangiare ah ok perché non capisco bene come funziona però comunque qualcuno in giro ci dovrebbe essere adesso andiamo alla posta si adesso andiamo alla posta di qua? qua nooo aspetta teni premuto start tengo premuto start si allora scusa no tieni premuto start se tu vedi sulle su quelli quelle zone abitate ci sono zone abitate queste qua sarebbero le casette? si si quelle cose quadrangolari ok ma c'è un simbolo ma c'è un simbolo con una posta proprio ah si una lettera una p boh ci metti quella la x sopra e ti fa e ti segna la strada no 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 non la vedo questa cos'è? tu non vedi stalla no allora io ti sto guardando si giuro che ti sto guardando allora vai giù 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 ricettatore c'è però giù lascia perdere il ricettatore vai contrappando un'altra volta allora questo su 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 eh su ancora ma guarda che è questa la piccadina lì con i simboli gialli ufficio postale preso oh e vai ecco schiaccia lì oh vedi che ti segna ti segna la strada seguimi eh ma segui l'ho messo anch'io ma ti sparò sentiti sta musica bravo ci va un po' di musica per strada per strada per strada si ma fai detto perché ogni due per tre venga io sono per terra con te in mezzo ai campi ma non impenna il cavallo voglio farlo impennare ma non so se una volta impennavo ti riuscivo adesso non riesco più in massima magari lasciamo di stare però è no ti dici che ha aperto cos'è sta roba ma se non mi sbaglio è sempre aperto ah ti dice la via ok ti dice dove siamo allora la roba innanzitutto sulla mappa la roba gialla sono le missioni questo cos'è un bagno? ma perché ma perché il mio cavallo non si ferma? ma è un bagno questo? ma perché? ma devi andare al cesso non lo so sembra un bagno vabbè c'è un montello un cazzo c'è un montello qual'è la posta? si entra dove? qua entri impari a seguire una mappa salve io io dovrei dunque dovrei ritirare la posta grazie allora lettera di creeps bottiglia incendiaria instabile vabbè frecce cartucce chi me l'ha dato tutta sta roba? ah guarda quante roba sto prendendo anche le cartucce della pistola eh si anche te non entri mai c'è anche l'armaiolo frecce esplosive frecce velenose boh ho preso tutto si adesso posso ucciderlo questo qua? no ah no non siamo su gta ah no non si fa la cacciara qua guarda come corre eeeh entra qua dentro dove sono? qua se tieni premuto start dovrebbe comparirti qualche simbolo giallo start? già qua in città sono in ferrovia io eh aspetto il treno mi chiamo T-Len si è simbolo giallo licenza di cattura vuoi fare quello? però tol cazzo adesso vieni qua vieni qua dove sei? no vieni 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 fai il furbo come mai sei rosso? sono rosso perché ti ho legato eh mi ha dato anche il simbolo rosso però io ti lascio sul treno non mi posso muovere io? no ovviamente no sei sicuro? adesso aspetto che arrivi il treno e ti guarderò morire si si vai nuota nuota no ma come hai fatto lui a slegarti? chiare come no? oh mi hai fatto cadere il cappello oh ma va che cosa sta facendo lei? oh eh non lo so io il mio cappello dov'è? oh mi hai ucciso oh cazzo l'ho ucciso no se ti difendi al giocatore ostilo aggressivo non verranno aumentati dove sono? no mo dove sono? mi scusi signor Mike mi scusi ho perso il cavallo mi hai ciulato pure il cavallo no ho ciulato il cavallo basta che il cavallo il cavallo senti come fischia oh ma laggiù c'è un altro focherello arriva un altro focherello laggiù comunque possiamo fare qua ehm vieni Damon allora si signor Mike signor no no signor Mike signor Mike stia buono il mio cappello dov'è? pure il cappello mi è ciulato guardi che io prendo il lazzo eh ok dov'è il cavallo? Damon stia buono prenda il cavallo è qua il cavallo Daisy è qua non l'ho fatta non l'ho fatta è partita da sola le chiedo vegna le chiedo vegna le chiedo vegna no 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 allora basta facciamo i seri prendo anche la pistolina dov'è il cavallo? oh mi è scappato Damon siamo nella stessa possa e com'è possibile che io e te ci possano sacanare di bo è qua guarda vai di vai a volo sta diventando giorno eh ma di uno rosso sei eh si perché t'ho picchiato comunque facciamo la pace non so come si faccia la pace bacino 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 venga qua le do un bacino anche il cavallo allora cosa vogliamo fare? no no di culo che è passato adesso il treno ti tranciavo io eh allora le missioni sono quelle gialle si essenzialmente poi i tizi che vedi con la mano alzata ci sono degli omini con la mano alzata arancioni quelli sono sconosciuti che chiedono aiuto e sono altre missioni che si di storia eccole ne avviate non sapevo e si è entrato dentro con prepotenza e sono abituato così quindi hai ricevuto l'invito premi se accetti l'invito a lasciare la partita attuale si andiamo a cavallo Daisy si dai andiamo a cavallo si alla valambust è arrivato qualcuno chi è arrivato? non ti farò uccidere arrivo subito è Mike si ma perché spara? boom no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti saluta Mike. Prendi, cosa c'è qua dentro? Prima hai dato un bacio al culo del cavallo di Mike. Ho preso il fieno, eh. Ho preso il fieno? Sì. Ma dove cavolo sei? In bovino a campanente, non lo so. Dove devo prendere? Adesso ti trovo. Cosa ho preso? Ah, l'evitazione per cavalli. Qualcosa per i cavalli ho preso. Ah, se tieni per il motostart mi dici esattamente dove sei. Ma puoi dare fuoco agli accampamenti. Ma perché devi dare fuoco agli accampamenti? Non lo so. Ma tu non devi smettere di essere così violento. Ispeziona. Oh, cosa ho trovato? Oh, comunque c'è San Dennis. San Dennis, presumo che si dica. Che è proprio una cittadina, eh. Non so cosa ho preso. C'è un botto di roba là. Eh, poi andiamo. C'è il medico. C'è il dottore. C'è il fotografo. Studio fotografico. Minchia, c'è un botto di roba lì. Uh, c'è anche da vestirsi. C'è il santo da vestirsi un po'. Oh, ho preso il brandy ho preso, eh. Sì, ho capito che tu vuoi fare l'ubriacone. Ma dove sei? Eh, l'accampamento, non mi vedi? Nella mappa. Ah, eccoti qua. Oh, ho preso l'olio per le armi, eh. Scusa, ma l'accampamento di chi? Non lo so, è abbandonato. Ci sono delle carrozze abbandonate. No, le cas... Per un attimo io che cos'è. Questo non posso aprirlo? No. No. No, non mi fa prendere tutto. Oh. Demon? Ma sai che penso che sia... che possa essere il nostro accampamento, questo? Ah, vuol dire che ho rubato il nostro accampamento? No, manutenzione alla stalla, no, no. Ah, non è nostro. Oh, sono bloccato. Cosare, vedi? Mi tiri fuori. Ma ti sei incastrato? Sì. L'unico modo che ho fatto, mi metti fuori, era col lazzo. Vabbè, io li metto qua, mi prendo un po' di caffè, va. C'è bene un fuoco che sta... Hai messo a cuocere una pannocchia? No. Io me la fotto la pannocchia. Crea cucina. È asciutto il sugo. Cosa è il sugo? È asciutto, amore, sì. Allora, andiamo a fare una missione? Sì. È asciutto. Eh, facciamo le tue, perché le mie sono già un po' più avanti. Senta. 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 Ma non lo puoi fare, perché non c'è la roba. Ti serve il materiale, la materia prima. Ah, ho finito il caffè. Di cacciare, riscare, raccogliere le erbe, per fare le cose. Aspetta un attimo. Non so capito. No, no, papì. È là il cavallo, questo è mio. Sì. Dici? No, papì. Sì, è mio. Mia. O è il tuo questo? No. No, questo è di Luca, Daisy. Eh? Questo non è il mio cavallo. Questo è il mio. Alice? Vabbè. Lei prende robe. Allora, dai. Salo, salo, salo. Salo. Ma come faccio ad avviare la missione? No, devi andarci. Non è come GTA. Devi andare. Ah. Tieni premuto start e dovresti un simbolo giallo, ti metti le X e ci andiamo. Ok. No. Mazza che mappa grossa, uh. Ma scusate, non c'è come in GTA. Premi L2. L, R, L2. Eh. L2 ti fa lo zoom indietro e quindi magari vedi un po' meglio. No, R, R3, l'altro è analogico, me lo fa a me. Vabbè. No, ma lo vedo da qua, ce n'abbiamo uno vicino, dove stai andando? Vai giù. Madonna. Vai giù, premi, ve la vedi quel simbolo giallo? Ecco. Licenza. No, a me che licenza di cattura mi sa che non cazzo, vabbè, proviamo. Vada. Ahia, ho detto vada. Ahia, tu ho pure tranciato, il tuo cavallo è un po' in casa. Alice. Roberta. Oh, l'albero, l'albero. Siete. Eh, fai tu. Guarda che qua. No. Ahia, che botta, madonna. Papi. Mamma mia, non ce l'ha mai. Papi, papà. Il tuo cavallo è morto. Quindi? Se lo chiamo? Eh, ahia, ma sei morto pure tu. No, io sono qua. Eh no, perché mi sei arrivato addosso, qua c'è il tuo corpo. Eh, papi, papi. Non lo so. Senti, io non ce la faccio vedere il tuo cavallo in queste condizioni. Ma dove sei? Ah, qua, ok, arrivo. Non ce la faccio. Credo che sei qua. Non posso sparare a demon. Eh, vengo io a ucciderlo. Eh, sta soffrendo. No, non sei qua. Non posso sparargli, eh? Aspetta, forse posso rianimarlo. Ma perché ti dà rosso? Si. Ti dà rosso. Le mie confronte. Eh, vai. Il cavallo? Si. Dai, però, diamo su. Però scusa, no, non è niente cioccolato adesso, Aurora. Eh tu, niente cioccolato. Ah, ma di qua. Ma è stanco il tuo. Scusa, ma ogni volta che succede qualcosa ti sbatte fu... Ah no, no, se comunque si non la possa. Dai, vieni. Ti dà rosso. Eh, ti dà rosso, però. Ma anche tu mi dai rosso, ti sei rosso, comunque. Ma sai cos'è? Che a te ti ha respawnato, giusto? Si. Eh, mi sa che ti ho ucciso mentre abbiamo fatto l'incidente. Ma come salta? Oh, ma aspetta. Cosa? Questo è il campo... Minato. Posso picchiarlo, questo? Aspetta. Non lo posso picchiare. Puoi picchiare chi vuoi, può fare quello che vuoi qua dentro. Però... Bastardo, mi ha ucciso. No, qua puoi uccidere chiunque. No, nel senso, non è un lato di capire gli anni. Ma scusa. Ma è che ne ha prenduto un allazzo. Eh, ok. Preso, preso, preso. Io invece mi sono attaccato all'azzo. Mike, Mike. Ne abbiamo una preda, Mike. Eh, eh. Sto cercando daemon. Sto cercando daemon. Mike, non lo faccio vedere, Mike. Arrivo. Fammelo vedere. Fammelo il cavallo. Sto venendo verso di te. Ma sei caduto da cavallo? Ah, adesso andiamo a portare dove dico io. Quindi te lo carichi. Ah, figo. Penso se dove andiamo. Dove, dove? Adesso andiamo nel bayou. Chi è quello? Chi? C'è un brutto tizio che sta passando. Nel bayou, ci so, è una palude. Qua ci sta un altro genetario. La palude nel bayou? Che che ha sparato? Ma che cazzo fa? Si è sparato un tizio, ma non è tutto, ha fatto niente. Le flat. Allora, o la pazzono qui? Ma è la pistola, ciao. No, nel bayou ci sono le... Le cose. Sì, ce l'ho. Andiamo qua. Ma scusa, ma avrà qualcosa questo qua addosso, no? Sì. Prendi. Vediamo cosa mi dà. Lui. Ma no, mi ha fatto prendere lui. Non voglio lui. Non lo prendi così, devi fare col triangolo. Ah. Fruga, triangolo. Non me lo dà. Però mi cambio il cappello. Ok. Che cazzo non lo so le paludi? Ah, ok, adesso sì. Devo trovare le paludi? Qua c'è un accampamento. I dobbiamo dover l'accampamento così molto. Ma non lo voglio il morto, vattene. Qua, qua in mezzo. Comunque la grafica è bellissima, eh. Ma lo so, è stupenda la grafica. Adesso ti porto nelle palude perché sono i coccodrilli e voglio lasciare là. Ma voglio pescare poi. Aghio! Che cazzo? Che cazzo? Ok. C'è un teschio rosso, perché? Ma su di te? No. L'ho preso una trambata. Ci sono qua 24 gradi qua. Salta. Ah, sono saltato. Guarda come salto nel video. Allora, sto cercando le paludi perché ti dico, io volevo lasciare la nostra preda. Non posso entrare. Allora, adesso trovo le paludi e poi ti dico quella strada. Salve. Non fare cacciara. No. Ah, è questo. Oh, ok, sorry. Just as soon as you could read. Ehm, ok. Ti dico poi dove andare? Sì. Cibo secco. Allora, facciamo... Quello hai? 75 dollari. Non c'ho soldi. Oh, c'ho 20. Per le missioni, però, per i soldi. Oh, per le missioni. O ti dedichi al... Al giardinaggio? No, alla pesca, alla caccia. Inizi a portare pesci. Pesca, pesca. Mi piace la pesca. Pelle, ma devi stare tutto il tempo lì. Com'è tutto il tempo lì? E tutto il tempo lì a pescare. Ah, perché mi salta di qua? Oh, scusi, non volevo. Travolgimento. Ho trovato un cavallo. Ah, ma è giusto. Sono arrivato dove dovevo arrivare. Sì, non è arrivato. Questo è quello delle taglie. Ricercato. Per avviare questa attività... Sì, la... Bayou. Devi prima prendere il tuo livello di sospetto. Ah, no. Chi vale, i grizzis? Dove è il Bayou? Bayou. Scusa, dove è arrivato il sospetto? Testimone, aggressione dell'armata. Ma, ma, vi avete una missione? Cos'è? Eh, testimone, devi scappare. Ah. Chiamo il cavallo. Demon? Madonna, quanto è lento. Demon? Demon? Dai, salga a cavallo al volo. Salga... Salga a volo a cavallo. Non lo di qua. Se no, guarda, il tizio lo vado a... Alice! Ma, scusa, posso togliere... Alice! Aspetta, un attimo. Ok, ho tolto la mappa. Alice! Questo che cos'è? Ufficio postale, un altro. Andi... Viaggio rapido. Andi, cos'è? Figo, faccio questo. Mi ha fatto merenda e l'hai già bevuto. Micchia, mi hanno crimine segnalato. Mi hanno appena beccato. Porca! Perché l'hai ucciso? No, perché c'ho il tizio rap... Il tizio rapito e uno va visto. Mi sono dovuto un attimo staccare per... Per le bambine. Ma, che cazzo è questo? Ok, il cavallo lo lascio qua. Mi sono un attimo nascosto, ma tanto mi beccano comunque. Toh, Alice! Ah no, ma quello non è qua. Allora... Facciamo così. Tanto il ricercato sta svanendo, perché mi sono abbastanza nascosto. Sono sulla... Sono sulla spiaggia. E' bomb. Oh, fermati, fermati. Io scendo. Spendo l'operaio. Mi spiace, signor operaio, ma lei... Lei dovrà morire. Non posso avere testimoni. Mi dispiace. Ma, più piano. L'ha ucciso. Fruga. Le gallette. Questa sarebbe... Sarebbe un modo da che pezzente. Alden. No, questo. E adesso vado a buttare il corpo in mezzo al mare. Senza il mare. Eh? C'è un'altra tutta l'altra filata. Ah, ma... C'è un'altra... RECUPERO DI CARRIE. Sì. Sì. E li bevo allo specchio? Non lo faccio così? Non bene. Quindi? Senti, ma fai un po' di... Perché ti servono un po' di soldi. Eh, è quello che stai cercando di fare. Vado a recuperare i carri. Adesso stacco. Eh. Ritorno stasera al massimo. Ehm... Fai un po' di missioni. Quella è la roba gialla. Tanto ti fai matchmaking, giochi con un'altra persona e le fai easy easy proprio. Le fai facili. Uh-huh. Fai un bel po' di soldi e almeno ti puoi comprare la roba, ti puoi comprare la canna e altre cagate. La canna pesca, allora da lì in poi puoi fare le cagate. Perché senza soldi in tasca è un casino. Ok. Cioè io mi sono comprato un botto di roba... Eh, cazzo di nuovo, sono volato per terra, ho ucciso il cavallo forse. Vai. E rianimalo. Io mi sono comprato un botto di roba e fai conto che io ho ancora 500 dollari. Boh, io vado Mike, dai. Sì. Mi raccomando, fai come ti ho detto, fai le remissioni e anche qua vedi che poi ti diverti, altro che GTA. Dai, ciao bello. Ciao. Sì, ma è enorme questa cosa. Questa che devo prendere? Ma, guarda, c'è una scrittura lì, il continuatore, se la ferma... Non so quale è, no, non è questa. Boh. Ma è la stazione a sud, non so se è il genere. Ah, è la stazione a sud, ma... Sud, giù, giù. No, se ne ho questa... Qual è? Spostati, non leggo... Non dice niente, però. Sono asciuto. A meno che non sia questo. No. No, forse è su, da l'altra parte. Su, da giù? Ah, capitavamo, da... Che non sia questo. Cioè, qual è l'altro ufficio postale? Serie di gara. Arma di... Bu... Lascia? Guardi, ti risposta, però non vedo. Non so. Eh. A meno che perché non l'è ancora scoperta, quindi non lo puoi andare a fare. Ma si è mai avviata la missione? Ah, beh, non lo so. Ah, quasi quasi da prendermi il bonus GTA e basta. Da girare la chiave. Lì, la ruota. Ehi. Piano. No. Ti verrà bua. Ciao. dusty, Luca. Ciao. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Grazie a tutti 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 Stanco Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti vado e due all'ora vado chi era quello U? ehi chi è questo? mazza che nome lungo che ha U U aspettami che si chiama? Della madonna ah lo passa nell'acqua dai bevi un po' cavallino beve o no? no non beva Pietra mamma mia oh sono arrivato l'ora domani devo trovare il computer la prima ora inglese carino questo U eh questo è un po' meno oh i told you go away old lady nothing but false prophecies and break you go away and i see much pain suffering in the future oh 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 i'm going to show you tonight eh i cheerio no i cheerio i cheerio no no Poi... Poi... Il mio supermerato... e il Madame Nassar Channel of Spits Traina che ha perduto le cose E, anche se tutti sembra essere un fortunetellore Selle... C'errano... C'errano... E' exotico E' un po' di questi C'errano... 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 Voglio abruccar il polo Fizz! C'errano... 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 no 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 NOOOO no rarita è l'acqua si andiamo a prenderla no desi E non so come abbassarlo Dopo poi abbassarlo Abbassi il volume del gioco Loni Non è che mi esce la registrazione Si Vai su sotto 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 Vai E regola mix audio Audio del party X Vai Adesso mi prendo Lu così? Meglio Quindi vale anche per qualsiasi gioco che faccio Loni No dai si Escai qui Escai qui né Escai qui né Beh Perché sono uscito? Mi hanno tolto da qua? Ma... Cos'è questo? Il mio fantasma? No, è un altro giocatore Non ho capito che sono affare Non ho capito che cosa fa Ehi 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 Vabbè va Che figo è il suo C'è il corpo L'avrà pagato per un po' nuovo L'avrà pagato per un po' Cosa devo fare? Boh A parte cadere Dai ci vediamo poi stasera se riesco a collegarmi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti